Nelly! 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 Mi hai sentito? No! Che? Guarda, ospedale. È la nostra uscita. Andiamo su. Sentito che prezza. In giornate come questa vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chitarra. Quando questa storia sarà finita ti insegnerò a suonarla. Già, penso proprio ti piacerebbe. Che dici, eh? Nelly, ehi! Eh? Oh, certo. È un'ottima idea. Oh, certo. Oh, certo. Oh, certo. Oh, certo. Guarda qui, un'altra città, un'altra zona di quarantena abbandonata. Guarda qui, un'altra città, un'altra città. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. È tutto ok? Sì, sto bene. È solo che oggi sei più silenziosa del solito. Scusa. No, non è… è tutto a posto. Giù siamo. Ellie. Ellie. Cosa? La scala. Dai. Giù. Giù sto. Giù. 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 I see you. Oh mio Dio. Hey. Che succede? Ellie? Ellie! Questo devi vederlo. Cos'è? Che diavolo? Mi stai prendendo in giro. Forza, muoviamoci! Hai visto? Shhh! Non spaventarla. Va bene, va bene. E cosa fai? È tutto ok. Vieni, vieni. Ehi, bella. Vieni, dai. Forza. Ehi, ciao! Ma che forza. Ok, da che parte? Dai, forza, andiamo. Ehi, frena, ragazzina. Muoviti, forza, andiamo! Accidenti! Wow! Guarda quelli a fare. Ok, grazie. Ok. Ok, grazie. Ok, grazie. Allora? È interessante come ti aspettavi. È i suoi alti e bassi. Ma... Il panorama non è male. Non è male. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e... Farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ho fatto. Non può essere tutto inutile. Ascolta... So che è uguale a noi. Ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo... Andremo ovunque tu voglia. Ok? Beh, non me ne vado senza di te. Perciò muoviamoci e facciamola finita. Grazie. 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 Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi, vedevi... Vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sotto sopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara? Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Ehi, Joel. Ho qualcosa per te. Tieni, me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Spero non ti dispiaccia. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Grazie. Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Ok, ti do una spenta. Ora non riesco, sono i troppi. Grazie a tutti. Ok. Ok. Grazie a tutti. No, non ci arriviamo. No, non ci arriviamo. Sono dall'altra parte. Ok. Ok. D'accordo. Stai vicino. va bene. Va bene. Tutto ok? Tutto ok? No, non ci siamo. ok. 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 Ehi, guarda! Eccolo là! Resta lì. No, non vado da nessuna parte. Non posso fare quel salto. Non vado da nessuna parte. Grazie a tutti. 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 Ah, ho capito. Grazie a tutti. Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Visto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 grazie a tutti.